Il porto di Pra sarà raggiungibile attraverso la costruzione di una nuova infrastruttura in quota, quindi un nuovo viadotto che andrà a sostituire, una volta entrato in esercizio, quello esistente. Avrà un tracciato rettilineo rispetto all'attuale che invece fa un'ansa di accumulo per poi scendere in ambito portuale. Avrà una corsia in più, quindi sicuramente ci sarà un maggiore efficientamento dal punto di vista dell'accesso dei mezzi pesanti in porto e avrà anche nel tratto limitrofo alla città delle barriere antirumore in modo che le case vengano in qualche modo protette. Abbiamo consegnato i lavori alla fine dell'anno, la previsione di ultimazione è prevista per l'inizio del 2024. Grazie